ciao allora oggi il video dei prodotti non ci siamo proprio del periodo primo prodotto che vi mostro se lo trovo eccolo è questo fondotinta del libro che si chiama ryan giunesse quindi giovinezza radiosa avevo due campioni quindi l'ho usato per un pochino e vi posso dire il prezzo perché l'ho segnato 30 ml 22 euro 95 ovviamente un prezzo scontabile allora questo tipo di fondotinta che adesso vi mostro nel campione questo e intanto non è adatto il mio tipo di pelle e questo ok poi comunque sia a una texture ricca ma comunque sia ricca ma comunque dal potere coprente medio basso è un fondotinta abbastanza illuminante come vedete anche comunque dallo swatch è abbastanza illuminante ma ricco e quindi non adatto alla pelle mista grassa perché l'esempio la mia che mista la tende a lucidare nel giro di pochissimo tempo oltretutto ha un potere abbiamo detto una coprenza sta accadendo tutto ha una coprenza bassa media bassa quindi non adatto neanche a chi ha delle imperfezioni delle macchie da coprire delle macchie della pelle quindi la trovo adatta ad un target davvero ristretto di persone e per questo prodotto che a me non è adatto a me assolutamente ma lo trovo anche strana come idea perché non credo che si adatte a tante persone se mi sbaglio fatemelo sapere nel secondo prodotto che proprio proprio non ci siamo sono rimasta anche delusa perché si tratta di questo ed è crema doccia della sefora questo al manoi 140 ml 3 euro in negozio allora io avevo aspettative abbastanza alte perché mi piacciono questi tipi di crema doccia e oltretutto detto manoi estivo e ha un buon profumo effettivamente il profumo annusandolo è buono ma poi una volta che si va ad usare non si sente per niente oltretutto non fa schiuma ne fa davvero poca devo dire che effettivamente è forse estivo quindi adatto ai lavaggi frequenti perché non fa schiuma però non irrita la pelle e non la secca perché dopo non c'è bisogno di crema almeno che non abbiate una pelle eccessivamente secca però ne aspettavo molto di più perché questo tipo di bagno doccia è molto profumato mentre questo il profumo è nella confezione ma una volta applicato usato non si sente non si diffonde durante l'uso non fa schiuma adatto ad esempio andare in palestro per lavaggi frequenti in tutti i giorni ad esempio in estate ma nulla di più non mi ha soddisfatto proprio periodo l'ultimo non ci siamo proprio è un vero non ci siamo proprio è questo prodotto della collagene il che interiore dovrebbe essere una buona marca si chiama repalp lip definer crema labbra effetto plumping avevo due campioni quindi l'ho usata per un po questa è la confezione ok allora intanto segnato il prezzo che 10 ml sul loro listino viene 28 euro mentre su amazon 17 euro e 90 più o meno quindi comunque sia si può trovare anche a prezzo minore ma non compratela assolutamente io non riesco a capire il senso di questo prodotto dice di applicare generosamente sulle labbra e lasciare assorbire prima di procedere al maquillage ok io ne applico un bello strato lo lascio assorbire lo lascio lì anche tutta notte non mi fa niente anzi ha un effetto collaterale dopo devo applicare tanto tanto basamo labbra perché me le secca tantissimo quindi assolutamente non le rimpolpa provato magari sul labbra superiore vedere una differenza assolutamente non rimpolpa ma oltretutto le secca tantissimo quindi proprio questo no non ci siamo per un prezzo oltretutto così alto assolutamente ve lo boccio boccio ma neanche evitatelo assolutamente allora questi erano tutti i prodotti non ci siamo proprio del periodo fatemi sapere se magari voi avete provato qualcuno di questi prodotti e vi siete trovate bene o come vi siete trovate perché l'opinione è soggettiva mi raccomando anche per questo tipo di video se vi piace di seguirmi su instagram perché faccio anche delle face impression nelle stories perché se un prodotto lo uso per poco tempo ad esempio se invece di due campioncini ne avessi avuto solo uno l'avevo usato per poco tempo allora vi facevo la stories sulle su instagram non stavo a farvi un video detto questo se vi sono stata utile vi è piaciuto questo tipo di video mi raccomando di mettere un like e di iscrivervi al canale così non perderete le prossime recensioni e mi raccomando anche la campanella così verrete avvisate ogni volta che calco un nuovo video alla prossima ciao ciao